Baresi e Costa Curta, un'intesa vincente, come la nuova linea viso-corpo intesa Purom, doccia shampoo in gel, neo, tonificante, al ginseng, intesa Purom e anche deodorant parfumé, per essere a posto 24 ore su 24. Intesa Purom. È una certezza. Intesa Purom, la certezza di piacere. La certezza di piacere.